Amici di Telea1, ancora una volta, nostro gradito ospite, che ringraziamo per la presenza e la disponibilità, il professor Giuseppe De Rosis. Anima, Deus Ex Machina dell'Associazione Amici dell'Arte, sodalizio socioculturale operante sul territorio di Corigliano Rossano e Nonzolo, ed eminente personalità da tutti noi conosciuta e stimata. Professore De Rosis, iniziative, ne abbiamo già parlato anche con l'assessore Novellis, dell'amministrazione comunale e degli Amici dell'Arte, in occasione del Dante D. Ci sveli qualche ulteriore curiosità e peculiarità su questo importante avvenimento? Allora, consensimi innanzitutto una citazione o due citazioni, perché le citazioni, e questa non è un ex ostazio non pettito, ostazio manifesta, le citazioni servono a imprimere più fortemente nella mente del lettore il concetto, quando non sono estemporane o esibizionistiche. Borges definisce la Divina Commedia l'opera più bella della letteratura mondiale, aggiungendo che tutti dobbiamo leggerla, perché chi se ne priva, si priva del dono più grande che la letteratura italiana e mondiale abbia potuto esprimere. Montale invece ti parla di un miracolo, di un prodigio dantesco, e addirittura Robert Cursius sostiene che la personalità di Dante è tale, che scavalca tutti i secoli. Ora noi in Dante dobbiamo leggerlo e rileggerlo, e leggerlo e rileggerlo più volte. Perché? Perché Dante è una fonte, disse Dante, e già questo è un messaggio. Possiamo anche proseguire su quello che è il messaggio dantesco, tenendo conto che la Divina Commedia non è un'opera accademica, fredda, come voglio dire, coreografica, fine a se stessa, insomma, arcadica. Invece la Divina Commedia è una costruzione complessa, in cui viene lanciato un messaggio salvifico di orientamento e di riscatto, per un'umanità smarrita, travolta dal male, sconvolta dal male. L'umanità si intende del tempo di Dante, ma la nostra umanità non è tanto diversa da quella di Dante. Se noi pensiamo il caso Palamara, se pensiamo i furbetti del bacino, se pensiamo a tutti gli scandali attorno ai dispositivi sanitari, mascherine e ventilatori, se pensiamo a quello che c'è stato attorno al ponte Morandi, a tutti i ponti che sono pericolanti, allora ci andiamo conto di quanto il messaggio dantesco sia ancora oggi attuale. Professore, iniziative, dicevamo, presenti anche a Corigliano Rossano, ma non solo. Una riflessione da parte sua per quanto riguarda l'attualità di Dante. Si diceva, ecco, dell'estrema vitalità, dell'estremo vigore del messaggio dantesco ad ogni livello. E si susseguono ovunque iniziative, un po' su tutto il territorio nazionale, dedicate al sommo poeta. Iniziative anche alcune molto curiose, molto originali. Addirittura Dante è entrato nella cucina, addirittura Dante è entrato, lo dicevamo, anche negli ambienti più disparati. Come si spiega la grande attualità di Dante e soprattutto il suo messaggio salvifico oggi, che mai come in questo momento è di vitale importanza alla luce della pandemia che stiamo vivendo? Per ringraziare innanzitutto, insomma, anche il comune di Corigliano per questa iniziativa straordinaria, in particolar modo Donatella, alla quale siamo legati da un affetto ormai, pur conoscendoci da poco tempo consolidato e sincero, autentico, ripensa ad alcune cose. Il 15% del lessico italiano è stato usato per la prima volta da Dante. Il 50% del lessico che noi oggi abbiamo nei vocabolari è tutto intero nella Divina Commedia. E ripensiamo ad alcune cose. Quello che c'è in Dante, in questo Florentinus Nazionem non moribus, ex suli meritus, perseguitato innocente, no? Innamorato della verità e della giustizia, che a un certo punto, è un momento che adesso ripetiamo dopo sette secoli, a un certo punto lui, sconvolto da come le cose andavano, senza il bisogno di uscire fuori dal racconto, di sporare i versi del poema e di gridare, ai serva Italia, nave senza rocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello. Riflessiamo su altri aspetti della personalità di Dante. Innanzitutto la coerenza fra pensiero e azione. Lui preferì l'esilio alla virtà. Il tema della libertà. Libertà va cercando che si cara come sa chi per lei vita rifiuta. Ripensiamo all'attualità di certe frasi come lasciate ogni speranza voi che entrate, ora incomincio alle dolenti note. Ripensiamo soprattutto alla vera essenza dell'uomo. Fatti non foste a vivere come bruti, ma perseguire virtù e conoscenze. Certe frasi di Dante sono incantatorie, come ho già detto qui, perché rimangono eterne nell'animo dell'uomo. Boscia, più che il dolore, poter di giorno. Il Dio si sa qual poi mi evita fusi. Frasi cereberrime che rimangono impresse nell'animo del lettore per sempre. E allora, grazie al professor Giuseppe De Rosis, che sembra un piacere ascoltare, e naturalmente continueremo a seguire con estremo interesse tutte le attenzioni promosse anche sul territorio comunale in questa particolare ricorrenza. Grazie al professor De Rosis e grazie a tutti voi.